Io quando ho iniziato a occuparmi di medicina 30 anni fa ho avuto il consiglio da parte degli oncologi medici della medicina in generale a smetterla di usare espressioni come il brutto male, il male incurabile per determinare, per identificare i tumori, il cancro, ma con coraggio il consiglio era di usare la parola cancro e questo ho fatto 30 anni fa. Oggi più nessun giornalista ha il coraggio di dire male incurabile per identificare un tumore. L'abbiamo fatta, l'ho fatta io, l'hanno fatta i miei colleghi che si occupano di medicina e oggi invece che cosa accade? Che quelle stesse persone, il primo Umberto Veronesi, punto di riferimento dell'oncologia, invitano a non usare la parola cancro. La domanda che mi sono posto è cos'è accaduto? È accaduto che la realtà cancro, quella che noi identifichiamo cancro, ha perso la sua identificazione, non è più quello spettro, quella malattia che porta a morte sicuramente, ma l'attività medica dei clinici della ricerca ha cambiato la realtà. Per cui quel cancro spettro terribile in pratica si è via via modificato e ha caratteri diversi rispetto a quelli che aveva 30 anni fa. Quindi adesso il consiglio che gli oncologi medici danno è diverso da quello che davano 30 anni fa, perché rispecchia una realtà diversa. La malattia che definiamo cancro oggi non è più quella di una volta, ma sono tante malattie diverse che hanno diagnosi, che hanno percorso, che hanno cure diverse e anche possibilità di guarigioni molto diverse rispetto al passato.